Io vi racconto di due cose. Nella mia esperienza di sviluppo di territori e di città vi racconto dei virus che ho trovato e vi racconto di alcune possibili vitamine che si possono iniettare all'interno di questi territori. Partiamo dai virus. Mia mamma è cresciuta con l'idea che l'economia si fa con i soldi. Io ho studiato economia, non l'ho ancora convinta che l'economia non si faccia con i soldi, ma se guardate lo sviluppo dei territori la cosa più deleteria che è accaduto nel panorama italiano, ma non solo, è che dove sono arrivati i soldi non si è creato sviluppo. Facciamo degli esempi. Basilicata. Io ho parlato con molti sindaci della Basilicata. Ci hanno detto che non ci siamo accorti che in 15 anni ci hanno riempito di royalties petrolifere. Sono arrivati una marea di soldi, non abbiamo creato sviluppo. Facciamo un altro esempio. Io vengo dall'area terremotata Piceno-Fermana, quindi soprattutto nel Piceno lo sviluppo si è creato, il lavoro scusate, si è creato perché alcune multinazionali sono venute e hanno investito. Queste multinazionali sono andate via e lo sviluppo non si è creato. Risorse finanziarie sono arrivate ma lo sviluppo non si è creato. Fondi strutturali europei, alcuni di voi ne hanno sentito parlare. Andate a leggere i rapporti su come sono stati spesi i fondi europei nelle precedenti programmazioni e che tipo di impatto ha creato sui territori. In Italia forse peggio che in altri, ma non in tutti i territori. Allora qua c'è un rischio che molti territori con la scusa di dire non abbiamo i soldi, non abbiamo i soldi, sono diventati poveri di idee. E allora da questo punto di vista la prima domanda è come si sviluppa un territorio oggi? Come si promuove? Ieri abbiamo parlato molto di promozione. La promozione non è vi racconto un territorio. Promuovere significa farlo muovere un territorio, farlo progredire, provocarlo. Seconda questione prendo a spunto una riflessione che ha fatto Ilvio Diamanti nei giorni scorsi e dice guardate soprattutto in questa Italia di mezzo, quindi Toscana, io sono marchigiano, Marche, in questa Italia di mezzo c'è stato in passato uno spazio economico, sociale, civile, molto virtuoso. Si è creato molto sviluppo in questi territori. Ora il rischio è che questa Italia di mezzo si sia trasformata in un'Italia media, cioè che le virtù di questi territori abbiano perso una T e siano diventate quasi dei virus, si siano sbiadite le virtù che hanno portato questi territori. La T che si è persa è la T di territorio. Questi territori si sono sviluppati perché avevano un legame forte col territorio, pian piano il rischio è che si è sgretolato. Ilvo Diamanti dice siamo di fronte a un contesto locale fatto di eredità familiari dove fiorivano le relazioni. Oggi le associazioni si stanno perdendo così come le relazioni, i giovani non ci sono più, se ne stanno andando, il calo demografico è evidente. Dobbiamo preoccuparci di un'Italia senza colori e senza radici perché perdendo il passato perdiamo anche il futuro. Allora la seconda domanda è i virus li conosciamo, ma quali possono essere le vitamine di questi territori? Allora io nella mia umiltà e poca esperienza avendo 35 anni ho selezionato tre vitamine secondo me interessanti per accompagnare i territori. La prima è quella che mi sta più a cuore ancorché meno concreta però attenzione bisogna ripensare alle retoriche del territorio. Quando si va in giro si incontrano delle retoriche del territorio che sono più estensioni inerziali del passato e nostalgiche piuttosto che forze motrici dello sviluppo futuro. L'idea che i territori debbano continuare ad essere quello che sono stati per 30-40 anni non è convincente, non guarda a un modo di progredire. Vi faccio solo un esempio che facevo anche ieri. Non è possibile che tutti i territori che hanno avuto un ruolo in passato vedono nel futuro turismo e cultura. Turismo e cultura sì, ma dentro un contesto di produzione di turismo e di cultura. In che modo un territorio si rivede in un contesto di nuova produzione? In che modo un territorio non si pensa solo come attrattore di consumatori ma come attrattore di nuovi produttori che sono in grado di mettere in relazione conoscenza, servizi, innovazione e portarla fuori. Produzione significa portare fuori. Questa è la prima vitamina quindi e tanti creativi comunicatori che ho incontrato devono aiutarci a ripensare questa retorica. Seconda, siamo cresciuti con un'idea che con il capitale umano, un po' di di capitale sociale ce la si faceva. Capitale umano vuol dire gente capace di intendere di volere, istruita, capitale sociale un po' di spirito, di servizio civico e volontariato. Credo che non basti più. Siamo in una società piena di solventi dove se non ricreiamo un nuovo capitale che non è né quello umano né quello sociale ma è il capitale di connessione, il rischio è che la società e l'economia sia sempre più sfibrata e le nuove economie non siamo in grado di intercettarle. Io sono cresciuto con il detto che mi diceva mia mamma chi fa da sei fa per tre. Questa generazione è cresciuta con questo detto qua. Le nuove economie, i relatori precedenti ce l'hanno raccontato, questo detto non lo possono, chi applica questo detto non possono intercettare le nuove economie che sono basate nella capacità di produrre insieme beni collettivi, nel produrre insieme qualità sociale. Allora da questo punto di vista la domanda diventa in che modo un territorio, le sue istituzioni non si aprono solo ai dati ma si aprono anche ai processi e diventano collanti per corroborare, per migliorare questo capitale di connessione. In che modo sindacati, associazioni di categorie, comuni non diventino solo portatori di propri interessi ma collanti di una comunità che produce bene i collettivi. Terza vitamina. Io sono nato nel distretto calzaturiero fermano, so benissimo che l'abbiamo sfangata perché c'è stata la genialità dei piccoli dei singoli che si sono messi in autonomia e hanno creato impresa. Ecco questa logica dell'individualità produttiva e dell'essere anche un po' padroni del proprio tempo credo che sia un po' finita. Bisogna abbracciare una logica di intrapresa collettiva, nella necessità di una logica un po' più orientata alla cooperazione e al riconoscimento reciproco. È come se fossimo entrati in una logica di coralità produttiva che pochi di noi hanno conosciuto ma che sicuramente sarà lo sfondo dentro cui dovremmo rischiare un po' di più. Allora queste sono tre vitamine che la dicono lunga sul fatto che probabilmente servono anche meno euro di quello che pensiamo, poi gli euro servono, un po' mia mamma ha ragione, ma servono meno euro di quelli che pensiamo e serve un po' più di coscienza di luogo, la chiama Beccattini. L'inventore dei distretti industriali ci dice che l'input dell'economia è diventata la coscienza del luogo. Per un investitore che mette un euro su un territorio è tanto più importante capire se quel territorio ha un grado di coscienza elevato oppure no. Probabilmente agli Ipparini dovremmo dare all'assessorato la coscienza, oltre che alla partecipazione. Questo potrebbe essere una nuova provocazione per le città, perché la partecipazione è un concetto che va bene, però come diceva Pedreschi per passare dai dati alla conoscenza, per passare dalla partecipazione alla coscienza servono anche strumenti diversi, servono anche collanti diversi. Allora siamo entrati in un mondo un po' di capovolgimenti, me ne rendo conto. Silvano Petrosino che è un filosofo ci ha scritto anche un libro su questi capovolgimenti, lui ne ha indicati alcuni. La casa non è una tana, perché l'appartamento era il luogo dove ci si appartava, adesso non è più un luogo dove ci si apparta, ma si esce. L'economia non è il business, però ci sono altri capovolgimenti che noi stiamo riscoprendo nello sviluppo dei territori. Il capovolgimento del tema della promozione, che vi dicevo prima, ma anche del tema della comunicazione. A noi tutti ci sembra che comunicare sia, trasferire e comunicare, la radice significa mettere in comune. Allora quanto dei dati che vediamo sono messi davvero in comune in una logica di creazione di conoscenze? Un altro capovolgimento è che la qualità delle decisioni non dipende solo da che tipo di democrazia siamo, ma dipende molto dalla qualità delle relazioni che noi costruiamo. E un altro capovolgimento che è l'ultimo è che fare economia oggi non significa solo metterci un euro. Quando io vedo i rapporti che indicano che un euro messo in cultura ne creano quattro, mi dico, va bene, saranno fatti bene anche i conti, ma chi se ne frega? Qual è il tema, qual è il vero moltiplicatore di investimento di un territorio? Io posso creare quattro euro e morire domattina, oppure posso investire un euro, creare un circuito di competenze, conoscenze, capacità di co-design del territorio e creare sviluppo. Allora da questo punto di vista ci dovremmo un po' tutti abituare in questi capovolgimenti e io vado a casa cercando di convincere mia mamma che l'economia si può fare anche senza soldi. Grazie.